Riccardo Fiamozzi è un giocatore del Pescara. Il difensore esterno, assistito dall'agente Mario Giuffredi, ha finora disputato 14 partite in Serie B con la maglia del Bari. È rientrato dal prestito al Genoa, società proprietaria del cartellino, ed è stato girato al Pescara che lo ha acquistato con la formula del prestito fino a giugno con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Stessa formula con la quale il Pescara ha chiuso con la Roma l'operazione Macin. Fiamozzi torna a indossare la maglia del Defino a due anni esatti da quando il Pescara, gennaio 2016, lo cedette proprio al Genoa per 1,2 milioni di euro. Una plusvalenza piena visto che il Pescara aveva acquistato il giocatore a parametro zero in uscita dal Varese. Difensore esterno, all'occorrenza anche centrale, nella prima parte di quella stagione disputò 15 partite con la divisa bianca-azzurra ed ora occuperà la casella lasciata sguarnita dalla partenza di Zampano. Stamani l'Alessandria ha comunicato il ritorno del centravanti Cristian Bunino alla Juventus, primo passaggio che porta alla formalizzazione dell'accordo tra il Pescara e il club bianco-nero. Bunino subito a Pescara a titolo definitivo e Leonardo Mancuso alla Juventus, sempre a titolo definitivo ma restando in bianca-azzurro fino a giugno in prestito. Nelle ultime ore si registra il nuovo pressing del Carpi per Luca Valzania. La società carpigiana vuole rinforzare il centrocampo e sollecita l'Atalanta, proprietaria del cartellino e l'entourage del calciatore, affinché possa trasferirsi anche se probabilmente è tardi per far andare via un giocatore che ha scalato le gerarchie di Zeman nelle ultime settimane. Il fronte cessioni resta sempre delicato per il Pescara. A poche ore dalla chiusura del mercato continuano ad allenarsi al poggio i vari Lattelat, Fornasier in forma differenziata ma anche i vari Cappelluzzo, Cocco, Baez, Coulibaly, Canutè, giocatori per i quali trovare una sistemazione almeno per parte di loro è estremamente problematico come non si trovano acquirenti per Stendardo e Andrea Rossi per i quali non sarà semplice neanche ottenere una rescissione contrattuale. Da monitorare Ransford Selasi, sempre più vicino alle Lecce, sempre che i Salentini abbiano garanzie sulle condizioni del centrocampista ganese.